Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata del TG Riki. Come funziona il TG Riki? Io attraverso questa email mi renderò disponibile a ricevere filmati qualsiasi tipo di video o articolo che voi scriverete e che mi invierete per essere pubblicato sul canale di YouTube che ho aperto. Per il momento il nome del programma del notiziario TG Riki. Ovviamente a breve istituirò un concorso, un sondaggio per cambiare questo nome se non vi piace. Se invece trovate che anche il nome sia opportuno lasceremo TG Riki e inizieremo a collaborare insieme, ovvero le notizie che voi mi manderete verranno da me lette o i video che mi manderete verranno da me pubblicati, mostrati nel TG Riki. Con l'unico tipo di censura che farò sarà a livello di linguaggio, di moralità. Accetto ogni tipo di notizia purché trasmessa in modo educato e diciamo elegante. Detto questo cercherò di seguire il TG Riki settimanalmente a seconda del numero di notizie che mi perverranno da voi. Vi ripropongo questa è la mail al quale potete mandarmi i vostri filmati, i vostri articoli e cercheremo insieme di fare delle notizie pure, sincere, perché saranno delle notizie per noi da voi. Per il momento è tutto, vi saluto dal TG Riki e da me che sono Riccardo, appunto. Arrivederci e a presto per la prima vera puntata del TG Riki.